Allora, sono molto felice di questa iniziativa. L'anno scorso, quando ho conosciuto Hub Music Project, volevano organizzare un evento musicale. Abbiamo fatto, la prima idea è quella di avere una sola data. Loro veramente immaginavano di farlo sul mare, a Santa Teresa o in altre location. Mi è venuta, devo dire, questa idea a me di farlo ai barbudi, in modo di non avere solo uno scenario di teatro, di prosa, ma abbinare quella che è un'altra forma d'arte, come la musica. È andata bene e quest'anno sono molto felice che abbiamo raddoppiato con un mini festival di due tate, il 17 luglio in Guinea, il 18 in Maisha, dico bene. Sarà un bellissimo evento, cioè che sicuramente va ad incrementare quella che è l'offerta culturale della città. invito, voglio dire, a tutte le persone a venire in città dal pomeriggio, fare un giro verso i nostri negozianti e commercianti, rimanere a cena o a bere un drink e poi tutti quanti in questo bellissimo vicolo dei barbudi sotto le stelle. Grazie.